Voglio annunciare la sottoscrizione del gruppo del Partito Democratico di questo emendamento e anche ovviamente il voto favorevole. Questo emendamento corrisponde peraltro ad un altro emendamento più esteso che riguarda il tema di più corpi dello Stato presentato dal Partito Democratico e che voteremo successivamente. Ritengo molto importante dare un segnale di sostegno alla pianta organica dei Vigili del Fuoco nella realtà di Genova perché davvero questo è un tema molto importante legato alla sicurezza di quella città. Lo penso anche in riferimento allo straordinario impegno, alla straordinaria dedizione che i Vigili del Fuoco hanno avuto nell'ambito di questa tragedia e anche nell'umanità dimostrata in tutti i passaggi delicatissimi della vicenda genovese. Veniva ricordato ora quando hanno accompagnato le persone a riprendere i loro affetti, le loro cose all'interno delle case. Quindi stanno svolgendo un lavoro molto delicato sotto tanti punti di vista e lo stanno facendo in condizioni dal punto di vista numerico, dal punto di vista degli stipendi, dal punto di vista dei turni. Davvero, davvero di grande difficoltà. Quindi credo che al di là dei proclami che sono stati fatti anche in più occasioni manifestati dal Governo per aiutare questo preziosissimo corpo, noi abbiamo il dovere ora di dare un aiuto concreto e di farlo all'interno di questo decreto.